Casa Ricordi, nel mondo, è la memoria storica di praticamente di tutto l'Ottocento. La ricorda è un grande periodo di guardare a tutti i compositori, è una relazione che non abbiamo davvero oggi. Si è il cielo, è il tempo, prima che il mio presagio interno, sull'orba e non resta... Con i 5 compositori, Donizetti, Rossini, Puccini, Verdi, tutti i compositori sono contemporanei. Quindi aveva un po' bello intuizione di chi è importante. Penso che era il pubblico, era il solo pubblico. Qualcun componente che pensava di essere un componente serio aveva dovuto andare a ricordarlo. È un componente fondamentale. Il Ricordi Archive colla quasi 8.000 autografi, poi 15.000 autografi, 10.000 libretti, 10.000 documenti iconografici. Giovanni Ricordi è stato veramente un grande musicista che ha intuito come si poteva tenere la musica ferma in un posto per poi darla agli altri. This whole box here is the whole handwriting of Falstaff and if you as a conductor now see and know that Verdi he wrote it by his own hand. Is that emotional for you? It is very important. It is extremely important. Das Archivio Ricordi ist ein wunderbarer Kulturschatz. und was nur sehr wenige wissen, dieser Kulturschatz gehört Bertelsmann. Wir sind daraus sehr stolz, aber natürlich verbindet sich damit auch eine Verpflichtung, nämlich die Verpflichtung, diesen Kulturschatz zu erhalten, ihn also zu restaurieren, in einem guten Zustand zu erhalten und so weit wie möglich auch der Öffentlichkeit zu präsentieren. und wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr, dem Verdi-Jahr, erstens die Verdi-Jahre in diesem Jahr, erstens die Möglichkeit der Verdi-Jahre in der Verdi-Jahre. Das Konzept, das wir wollten folgen, das wir wollten folgen, so dass wir in diesem Jahr, in diesem Jahr, dem Verdi-Jahr, 200 anni Verdi, la possibilità di essere in Berlino esponate sulle operazioni Notello e Falstaff. Non credo che sia facile trovare una storia del genere, una storia dell'editoria musicale nel mondo. Grazie.